Flazza oltre che una grandissima maleducata è pure bugiarda, aggiungiamo perché mancava no? Flazza è proprio strafottente nei modi, che brutta persona Flazza pure, questa te la scrivo perché non mi va di dirtela, però la puoi immaginare tu Arrogante, bugiarda e becfreghista, non meriti di stare lì Flazza è immatura, irrispettosa e spavalda Se non lo capisci, nonostante i richiami, apri la porta e vattene Guarda, questa la metto proprio come conclusione Sai quanti messaggi ho ricevuto io di persone che mi chiedevano di cacciarti dalla scuola? Pensi di essere infantile, cafona, ingrata, menefreghista, antipatica, maleducata, bugiarda, strafottente? Arrogante, immatura e rispettosa spavalda Ti appartengono?